Ciao a tutti, oggi prepareremo l'orzo con ceci e carote. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono rosmarino, scalogno, olio evo, carote tagliate a cubetti, dado bimbi, orzo, perlato, precotto, acqua, sale, ceci lessati, pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il rosmarino e lo scalogno ed azioniamo il bimbi per 5 secondi a velocità 7. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 3 minuti a 120 gradi a velocità 3. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Unire le carote ed acceniamo il bimbi per 2 minuti, 100 gradi, anti orario, velocità soft. Aggiungiamo l'acqua, l'orzo, il dado, il sale, il pepe, mescolare sul fondo con la spatola e facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, anti orario, velocità soft. Unire i ceci e continuare la cottura per altri 3 minuti, 100 gradi, anti orario, velocità soft. L'orzo è cotto, trasferire in un piatto da portata, irrorare con un filo d'olio e servire. Orzo con ceci e carote. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.